Si è svolta domenica scorsa presso il Circo L'Unione la presentazione del libro di Ruggero Snato, L'incrocio, romanzo ambientato a Caronia, Centro e nelle sue frazioni Marina e Canneto, ma anche a Cefalù, Santo Stefano di Camastra, San Fratello e in generale nel Parco dei Nebrodi. La manifestazione è stata organizzata dall'associazione culturale Restart, sodalizio che dal 2010 si occupa di tutelare e promuovere i beni culturali ed ambientali siciliani. All'evento hanno preso parte il presidente del Circo L'Unione, il dottore Mario Salamone, che ha dato il benvenuto agli intervenuti e ha anche tracciato un profilo dell'autore e un breve inquadramento dell'opera. Il dottore Ruggero Snato, autore del libro, che ha letto personalmente i brani del suo romanzo, ha puntualizzato alcuni aspetti dello stesso che gli sono stati richiesti. La dottoressa Elisabetta Cinchini, moglie di Osnato, che ha portato la propria testimonianza sulla stesura, sull'evoluzione e sulla promozione del romanzo. E il presidente dell'associazione culturale Restart, il dottore Vittorio Alfieri, che ha condotto la serata e ha commentato l'incrocio, definendolo un romanzo impegnativo, scritto con perizia, con ricercatezza e anche con artire per il fatto di alternare prosa e lirica nella trama, che risulta avvincente e coinvolgente perché autore, testo e lettore riescono ad avere un ruolo paritetico ed equilibrato, oltre che una bellissima dichiarazione d'amore per la Sicilia e per i siciliani, pur con tutte le difficoltà e le contraddizioni di cui siamo intrisi, è uno spot pulito e positivo per i nebrodi, in un periodo storico in cui qualcuno al nord potrebbe anche pensare, in base ad alcune notizie filtrate, che venire qui da noi possa essere inutile oltre che pericoloso.